Torna tra i banchi di scuola anche Acquetour, il progetto di educazione ambientale di Acquetour festeggia quest'anno il suo decimo compleanno. Informare, far conoscere, contribuire ed educare. Acquetour è il progetto di educazione ambientale che Acquetour, il gestore idrico del Basso Valdarno, all'inizio di ogni anno scolastico, propone gratuitamente alle scuole del territorio con l'obiettivo di approfondire la conoscenza degli aspetti naturali e tecnologici del ciclo idrico, di accrescere la consapevolezza del valore dell'acqua, di promuovere una cultura di rispetto e salvaguardia di questo bene primario. Acquetour si articola in interventi di esperti nelle scuole, visite e gite gratuite agli impianti e agli acquedotti, come ad esempio alla centrale idrica di Caldacoli a San Giuliano Terme, all'acquedotto storico di Asciano Pisano, ai depuratori di Pisa Sud e di Cascina. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, per i quali sono stati creati i percorsi ad hoc che utilizzano simpatiche favole per avvicinare i bambini alla tematica dell'acqua in modo semplice e spontaneo. Inoltre, ogni anno i percorsi didattici si rinnovano con nuove proposte ed azioni educative. Ad Acquetour è abbinato il concorso Buona da bere, che premia le classiche. Nel corso dell'anno hanno realizzato i migliori elaborati sull'acqua come risorsa e sul suo utilizzo da parte dell'uomo. Nell'anno scolastico 2010-2011 Acquetour, con circa 260 interventi, tra lezioni in classe, visite sugli impianti e gite guidate, ha coinvolto oltre 5.600 studenti, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, nonché numerosi gruppi di adulti come associazioni e università della terza età. Questi numeri confermano la bontà e il successo di questo progetto, che negli anni, siamo alla decima edizione, si è fatto sempre più ricco ed articolato, grazie anche al contributo degli insegnanti e degli educatori. La partecipazione ai percorsi didattici proposti è completamente gratuita per i primi 250 gruppi scolastici e non che ne faranno richiesta. Il coordinamento di Acquetour è affidato all'associazione La Tartaruga, impegnata da anni nella realizzazione di percorsi didattico-ambientali sulla tematica dell'acqua.